Comence e Babacar hanno giocato insieme, sia vicini, come mi ricordo ad esempio a Balsaba con il Real, sia con Babacar un po' più spostato a sinistra, non so qual è la chiave migliore per vederli insieme. Sicuramente Babacar è più attaccante come Mario, spila un po' meglio rispetto a Mario, ma anche Babacar, a dire il vero, da esterno si può dettare più Babacar, ma soltanto delle circostanze perché non è proprio il suo ruolo, non ha ancora la fatica mentale, la faccia. Rimanente all'attacco, un giocatore come Marine, come procede il suo recupero, il suo inserimento? Che minutaggio credi abbia raggiunto fino ad oggi e soprattutto nel momento in cui l'avrai completamente a disposizione, come cambierà la Fiorentina con un giocatore 1-2? A Marino sta molto molto meglio, è vicino a... E quindi...